ciao luca ciao papi vieni bene qualcosa si dai porca miseria è bella questa casetta molto è carina molto dove mi siedo? qua? prendo qualcosa da bere arrivo vai eccoci questo va meglio va famocina cin ho saputo in giro che lavori con i cavalli ma cosa fai? equitazione emozionale equitazione emozionale ah fai ipoterapia? no non faccio ipoterapia istruttrice cavalli? no non faccio l'istruttrice cavalli allora che fai? ti aiuto ad incontrare te stesso attraverso l'aiuto dei cavalli ma io non so andare a cavallo non serve andare a cavallo perché si svolge tutto da terra da terra i cavalli sanno già tutto di te fin dal primo momento che entri nel loro spazio e come fanno che sono magici? semplicemente leggono il linguaggio del corpo loro vedono e sentono se sei arrabbiato triste agitato oppure se sei felice eccitato wow bellissimo ma è possibile venerlo a provare? certo domani? domani alle tre si perfetto ti va bene? allora ci vediamo domani pomeriggio va benissimo oh mamma mia si è fatto tardissimo devo andare che c'è una persona che mi sta aspettando ok grazie e tu cosa stai aspettando? dietro di te c'è un mondo nuovo e la libertà comunque sì i cavalli sono magici ma qua mischiate? no il pomodoro no no tu stai aspettando? lui si può prendere in qualsiasi momento si è incastrata una patata poi dopo è grandissimo a mettere insieme tutta sta roba ok comunque io sono rimasto a... devi guardare qui ok ma devo fare anche l'apretto cioè luca c'è i nenni neri e ecco sai io guarda a te o guarda a lui adesso? c'è un mondo nuovo dietro di te e la libertà dai non mi fai Grazie a tutti